Massimiliano Paoluzzi, sono candidato con la lista del popolo per la Costituzione e sono qui con Glauco Benigni. Volevo leggere con voi l'articolo 9 della Costituzione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Mi riesce difficile commentare questo articolo, ma una cosa la possiamo dire, che sicuramente non è pienamente attuato. E' per questo motivo che siamo qui e siamo candidati con la lista del popolo per la Costituzione per attuare questi articoli, per attuare i principi fondamentali e per far sì che finalmente il popolo sovrano possa avere i suoi diritti tutelati. E' molto semplice anche, credo, no? Molto semplice è brutto dire molto semplice, per tutti dire molto semplice, però il verbo tutelare significa un sacco di cose meno che svendere, no? Per esempio. Assolutamente, assolutamente. E quindi votate lista del popolo per la Costituzione alle prossime elezioni del 4 marzo 2019. Tu sei candidato dove? Lazio 1 Trionfale e il collegio che comprende le zone di Latina, Frosinone, Terracina e Cassino.